Un saluto a tutti! In questa video guida andremo a dare una notizia sensazionale, ossia sono riuscito a tradurre il software proposto FreeDraft in lingua italiana. Solo per voi. Penso di essere stato il primo al mondo ad averlo fatto, infatti andrò a comunicare il file del linguaggio che tra poco andrete a vedere anche con i produttori del software che quindi potranno inserirlo nel pacchetto di download per tutti gli utenti che vogliono utilizzare. Però in anteprima adesso lo conoscete solo voi, perché non è stato ancora comunicato a nessuno. Andiamo a vedere come si può fare a rendere FreeDraft in italiano. Ho fatto questa video guida anche per questo, ma poi parliamo di altri due software gratuiti CAD, 2D e 3D, in italiano. Quindi questo è un focus sulla lingua italiana. Andiamo a vedere come tradurlo. Innanzitutto potreste, in via eccezionale, riscaricarlo dal solito link che già conoscete, che vi è stato comunicato. Quindi potreste buttare la cartella che già avete. Occhio, ancora ci sono dei file dentro su cui state lavorando, quindi fate il backup prima di fare questa soluzione estrema, che è una scelta sconsigliata, però estrema, se uno non vuole problematiche varie, ma vedremo che la procedura di, diciamo, traduzione è veramente smart e veloce. E con questa guida penso che non ci debbano essere ulteriori problemi. In alternativa, appunto, a Sky Guide, muove il pacchetto già tradotto, che tra parentesi non ha neanche la schermata iniziale, l'ho ottimizzato pure, quindi non esce più con la sua pubblicità. Vi ricordate che FreeDraft prima usciva con la sua scritta in tedesco, bla bla bla, e noi ogni volta la griglia, dovevamo andare a spegnere la griglia ogni volta, e molti rimanevano spiazzati da questa piccola cosa. Basta un niente e subito vi spiazzate. Va bene. Imparirete. Quindi è stato anche ottimizzato, quindi volendo potete anche cestinare quello che avete, sperando che non ci sono disegni dentro, che ancora non avete consegnato, e potete riscaricare il pacchetto bello e pronto. Qualora così non fosse, potete fare la cosa migliore, ossia scaricare il file del linguaggio, che adesso vedremo, che è un file piccolissimo, infatti a breve ve lo trasmetterò per e-mail, molto probabilmente quando state guardando questo video già l'avete ricevuto, e vi state chiedendo cosa devo fare con questo file allegato. Questo file allegato, una volta chiuso, FreeDraft si è aperto, chiudetelo, perché dobbiamo fare questa piccola operazione, dobbiamo scaricare il file che è arrivato per e-mail, o che comunque trovate sempre nella cartella ttrg, questo file lo dovete copiare in una cartella stessa di FreeDraft, una sottocartella. Andiamolo a vedere. Come noi sappiamo, quando scarichiamo FreeDraft, l'abbiamo già fatto la prima volta, ci troviamo di fronte a una situazione del genere, che poi la cartella stia in documenti, in download, in una penna USB, abbiamo detto che non importa nulla. FreeDraft, una volta cliccato due volte sulla sua icona, parte inesorabile e funziona, è di segno. Ok? Quindi è tutto molto semplice. Una volta scaricato il file del linguaggio, che ancora non vediamo perché io già l'ho copiato, va messo questo file del linguaggio in questa cartella. Quindi, prendiamo il file che abbiamo scaricato, che adesso andremo a vedere, io l'ho fatta già l'ho perso. Ok? Andiamo ad aprire, ignoriamo tutto il resto, andiamo ad aprire la cartella languages, che mi sembra molto chiaro, lingue, ok? Andiamo ad aprire la cartella languages, e andiamo a copiare qua il file, io già l'ho fatto, italian.lmg. Questo è il file piccolissimo, andiamo a vedere nelle descrizioni, che è solo 145 KB, quindi, veramente, diciamo, un'inizia. lo andiamo a copiare in questa cartella, che ovviamente prima non ce l'aveva, quindi aveva solo le altre lingue, che noi vediamo, ma l'italiano non lo voglio. Una volta fatto questo, torniamo sopra, nella cartella madre, e andiamo a cliccare due volte sulla nostra icona, di free draft. Ovviamente si avvia free draft. Ma adesso qui io ho fatto anche la costruzione della bandiera, non è che vedrete la bandiera ogni volta. Partirà a free draft. Partirà molto probabilmente in inglese, perché l'ultima volta l'avete utilizzata in inglese, o, peggio ancora, magari uscirà in tedesco, in qualche altra lingua, ma non importa. Voi dovete fare questi semplici passaggi, che adesso vi faccio vedere. Andate nel penultimo menu, partendo da destra, che si chiama TULS, ma poteva essere anche scritto in una lingua strana, strana, non importa, è sempre il penultimo, non l'ultimo, penultimo. Ci cliccate sopra, andate nell'ultima voce, che qui si chiama language, ma potrebbe essere scritto qualsiasi cosa, sempre l'ultima voce, dovete selezionare, e in questo caso andate ad attivare italiano, che prima non c'era ovviamente. Una volta che cliccate su italiano, la magia già è fatta, cioè già la traduzione è attivata. Ovviamente potete anche per ulteriore sicurezza, chiudere il programma e riavviarlo, per permettergli di ricaricare tutti i menu, ma dovrebbero essere già tutti attivi. Come vedete l'interfaccia grafica, è tutta tradotta in italiano, per quello che si possa tradurre in italiano. Quindi a parte queste modalità di disegno, che snap, grid, orto, polar, osnap, e lo spessore della linea, non potevano essere tradotte proprio, diciamo, i programmatori, non ce l'hanno permesso di fare, e anche perché sono delle funzioni base di AutoCAD, però se andate sopra, mentre prima appariva la finestrella gialla con l'indicazione in inglese, adesso è in italiano, e penso che sia anche una descrizione, diciamo, migliorativa, dal punto di vista didattico. Quindi ho cercato anche di curare la forma. Ovviamente non è detto che la traduzione è esente da errori, può darsi che ci siano errori di battitura e contatto. Ovviamente siete pregati a segnalarlo, mail l'avete, o ne vai canali che voi volete raggiungermi, potete segnalarmi eventuali errori di battitura, di traduzione, e ovviamente cercherò di risolvere. Ovviamente l'ho già verificato più di una volta, l'ho testato, e penso che già sia ottimo così. Certamente un errore di battitura non va ad influire sull'utilizzo del programma e sulla comprensione di esso, perché poi, diciamo, al 99,9% dovrebbe essere corretto. Quindi sono state tradotte tutte le funzionalità, ovviamente a partire dai menu, che vediamo, files, ed, visualizza, formato, disegno, quotature, modifiche, strumenti, e di età. Ovviamente tutti i sottomenu, le sottomaschere, e anche l'aria qui, è stata di comando, tutto deve essere tradotto. Ok? Quindi tutto è stato tradotto. Testo, anteprima, ok? È stato tutto tradotto. Quindi adesso siete nelle condizioni migliori per poter procedere col vostro studio senza alcun impedimento di sorta. Ok? I bottoni sono sempre quelli, le icone sono sempre quelle, la posizione dei bottoni è sempre quella, ovviamente, quindi, diciamo, come disegnavate prima, adesso dovreste disegnare in maniera più veloce. Ovviamente adesso tutte le indicazioni, qua, rettangolo, che prima, rectangle, ovviamente alcune traduzioni sono state banali, alcune traduzioni sono più importanti per l'apprendimento, perché alcune parole non hanno un equivalente italiano molto facile, ovviamente. Quindi, adesso siete nelle condizioni ottimali per lavorare. non vi voglio parlare solo di FreeCraft, che pesa solo, anzi, FreeDraft, che pesa solo, io come al solito confondo i vari nomi, perché utilizzo, so utilizzare una trentina di software CAD, quindi, scusatemi se lo chiamo molte volte FreeCraft, molte volte lo chiamo anche AutoCAD, perché per me ci lavoro anche, quindi è uguale per me. FreeDraft occupa solo 8,6 MB, quindi diciamo 8 MB, quasi 8,5 MB, quindi in un file così piccolo, in un zip code così piccolo, c'è un programma totalmente completo, e stavolta anche in italiano, tradotto da me. Se vogliamo vedere il panorama dei software CAD con gli requisiti di gratuità, quindi devono essere gratuiti, e come interfaccia grafica devono essere presentati in italiano, non ci sono molte alternative, se vogliamo rimanere su questi due vincoli, ossia gratuità e linguaggio in italiano. Ne sono veramente pochi. Quelli che conosco io, che penso che esistono solo quelli, onestamente, non voglio essere superbo, sono NanoCAD, versione 5, che non è neanche l'ottima versione, la versione professionale di NanoCAD è la 11, quindi la versione 5 di qualche anno fa, che però è stata tradotta da un'equip italiana, una community italiana di sviluppatori, e di tecnici, professionisti, ingegneri, e quant'altro, è stata tradotta in italiano. E quindi ve la rendo disponibile questo lavoro prezioso, che è stato fatto registrandosi nella pagina di NanoCAD italiano, se digitate, andate. Io vi do già direttamente il fatto, in teoria voi dovreste andare lì, dare la vostra email gratuitamente, ed iscrivervi alla community, per rimanere sempre aggiornati nel mondo del caldo, e vi consiglio di farlo, a prescindere dal file che potete già scaricare subito, nei link che ci sono, nelle informazioni del presente video. Il file da scaricare, e stavolta da installare, è un file di 463 erotti megabyte, quindi capiamo da 8 megabyte, siamo arrivati a 463 megabyte. Però è un software, diciamo, con l'interfaccia grafica più fresca, più piacevole, lo andiamo a vedere qui. Ok? Questo è NanoCAD. È più potente, ha più elementi, diciamo, più geometrie, che possono essere rappresentate, quindi è un po' più potente, ma sono tutte cose che si notano a livelli molto alti, incommensurabili dell'uso del programma. Non certamente ai primi tempi, ma vi dirò anche che chi lavora in mania, diciamo, normale col CAD, lavora, torno a dire, tranquillamente, con FreeDraft. Poi è una questione di gusto, è una questione di, diciamo, di pensiero, se vogliamo, di filosofia, però con FreeDraft io mi sto trovando bene, mi trovo bene. Ho anche NanoCAD, che tranquillamente, qualora ci fosse problemi, di fare un comando particolare, una geometria particolare, ovviamente devo necessariamente migrare su un altro software che è gratuito, che è italiano e che possiamo scaricarlo dal link del video. Ulteriore soluzione, ovviamente, come facciamo a non parlare di AutoCAD? Parliamo anche di AutoCAD. AutoCAD non è gratuito, dite, professore, mi avete stato dicendo che è stato elencato i software gratuiti, no, non è gratuito, bensì, può diventarlo se scaricate ed attivate la licenza per studenti. È una licenza per studenti che non è limitata nelle funzioni, ma i file generati comunque hanno un certo blocco, per così dire, e soprattutto le stampe di questi disegni, che siano in PDF, che siano cartace, hanno una filigrana che ricorda che il file è stato generato, elaborato da un software gratuito. Ovviamente, questa è la schermata di NanoCAD per fare un salto indietro, dove voi verrete iniziati con un link breve che ho creato io, che si trova anche qui, nella solita cartella di lavoro, nonché si trova anche qui, nella nostra, diciamo, schermata delle video guide nella nostra playlist di YouTube delle video-video, giusto per richiamare alla memoria come stiamo organizzati e cosa ho fatto per voi. Andiamo avanti. AutoCAD, stavamo parlando di AutoCAD. È possibile scaricare AutoCAD in ben 3 GB di file. Quindi, ci vuole una connessione veramente importante. Ci vuole spazio sul disco indido, ci vuole una macchina particolarmente potente. Stessa cosa di NanoCAD. NanoCAD sempre richiedeva risorse maggiori, quindi io li ho elencati proprio a livello di praticità e di economia, se vogliamo. FreeDraft è quello maggiormente ottimizzato. Lo metti in tasca, lo porti nella pennetta USB e disegni lo uomo. DVG, tutte le funzioni di AutoCAD, quindi, veramente spettacolare. in rapporto al suo peso di 8 metri. Ovviamente, se vogliamo qualcosa di più e vogliamo anche sfiziarci con 3D, andiamo su NanoCAD. Se poi vogliamo esagerare e vogliamo il più blasonato software di CAD che ha, diciamo, stabilito, dettato il settore del disegno tecnico a computer, dobbiamo provare AutoCAD. In licenza studenti è gratuito, attivabile per un periodo che va da un anno a quattro anni, mi dicono gli alunni, io ancora, ovviamente, non lo faccio. Ovviamente, potete scaricare la versione più recente, 2021, in italiano, appare di avere una buona connessione, perché dovete scaricare 3GB per il sito di AutoCAD, previa registrazione, ovviamente, che andrete a fare qui, in inglese, in una pagina in inglese, torniamo che l'inglese è sempre, diciamo, necessario, quindi, dopo aver fatto Cree Account, qui, andando avanti con la procedura, dove dovete andare a mettere la vostra email, il vostro nome, il cognome, il sito studio,